E' che mi confondo, mi mi serve il talismano da strega per evocarla. Forte Schiu, mio buon cavaliere. Sapevo che saresti tornato con ciò che ti ho chiesto. Ora posso preparare la mia formula. A cosa serve, dici? È un un guinto medicinale di grande potere. Una medicina magica per la testa di mia sorella. Ehm, eh sì, esatto. E soffri di micronia cronica. Problemi di postura. Ora vai. Da questo momento ti è rivelata la prigione dei demoni delle ombre. Ho capito. Ok, la prigione dei demoni è aperta. Dei demoni delle ombre. Ok, la prigione dei demoni è aperta. Ok, la prigione dei demoni è aperta. ok usiamo l'artiglio dei demoni del ombre ok entriamo è un meccanismo difficile ok 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 A presto. Bene ragazzi, devo sistemare solo questo oridomeccanismo. Bene ragazzi, devo sistemare solo questo oridomeccanismo. Bene, ora la mia pietra di Anubi sarà mia. Oh fratello, rimangio tutto quello che ho detto di tua piccola testa, ce l'hai fatta! Questo frammento di pietra di Anubi è come borsellino di pellegrino, a portata di mano! Prendilo, si va a casa! Vedete ragazzi i demoni delle ombre? Ne sono usciti tantissimi, ma ora dovrò affrontarli. Dovrò affrontarli. Vieni qui, demoni delle ombre, demoni delle ombre. Oh oh, devo stare attento. Quando ci mette. Oh, finalmente. Ok. Buon anno. Ok. 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 Maledetti demoni delle uomini Taglierete cara questa Bene ragazzi siamo nei demoni qua Devo sconviggere i demoni Non mi piace Fai veloce con tue armi Tan Altrimenti finiamo come kebab Non mi piace Devo cambiare arma ragazzi Non mi prendi demone Mi prenderò io Maledetti demoni Taglierai gana Non mi prenderò io Maledetti Ah si ora vi sistemo io Bene Bene un demone lo sconvitto ragazzi Vai a crepare Vai a crepare anche tu Insieme agli altri Ciao Addios Bene ragazzi siamo giunti C'è la fondana di guarigione ragazzi Ecco la runa della luna Qua ci saranno i demoni delle ombre Te la faccio pagare Te la faccio pagare cara Qua ci saranno i demoni delle ombre Non ci stufate No ci stufate oh finalmente mi sono liberato di quel rosco e ora noi andiamo alla sala degli eroi ma prima c'è un filmato ecco la nave fantasma avete visto vuoi distruggere il castello giusto zack